Ciao a tutti, benvenuti su Megisoflotus Allora, prima di iniziare come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like, di commentare se vi va, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati Vi ringraziamo un sacco per il supporto, siete sempre di più e vi ricordiamo anche che se volete supportarci ancora di più potete abbonarvi sia su Twitch, utilizzando l'account di Amazon Prime Video che vi da accesso a un abbonamento gratuito al mese oppure su YouTube seguendo i vari livelli di abbonamento del canale Per tutti quelli che lo fanno vi ringraziamo un sacco Ricordatevi che su YouTube avete l'accesso alla rubrica Keep for Sell in anteprima quindi chiunque sia abbonato su YouTube quando chiede se una carta è da tenere o da non tenere ha la risposta prioritaria A breve, tra l'altro, viste le richieste veramente alte nella rubrica Keep for Sell probabilmente metteremo il blocco ai non abbonati per una carta alla volta o una carta a settimana o tre a settimana il problema è che veramente stanno arrivando tantissime richieste siamo contentissimi solo che ci vogliono comunque tanti video per esadire tutte le vostre richieste quindi dobbiamo un minimo limitare Allora, detto tutto questo, oggi parliamo di un argomento interessante grazie ad un articolo del Sole 24 Ore quindi una testata veramente veramente importante nella sezione Tecnologia Games dei Pokémon Magic quando i giochi di carte diventano beni rifugio Allora, cos'è un bene rifugio? Il bene rifugio è un qualcosa che non sono i soldi che in cui si può investire che salga nel tempo ma almeno chi investe in quei beni rifugio pensa che salgano nel tempo e niente che non sia un bene come i soldi quindi deve essere un oggetto o un qualcosa anche un NFT, per carità di Dio cioè qualcosa di digitale che comunque noi pensiamo che nel tempo possa acquisire valore perché i soldi è vero che possono cambiare il loro valore perché una valuta può scendere o salire però difficilmente questo cambio è così grande da darci o un guadagno altissimo o una perdita fortissima è abbastanza difficile quindi ovviamente ha più senso ottenere un bene di in questo caso o da collezionismo per esempio oro metalli preziosi, pietre preziose eccetera ci sono vari quadri varie possibilità in questo caso è vero che le carte di Magic ultimamente sono diventate un bene rifugio lo erano già prima negli ultimi anni le carte veramente rare hanno avuto uno spike di prezzo assurdo assurdo non perché non sia giustificato per me è stragiustificato sono carte che hanno 30 anni molto rare quando è uscito Magic nessuno sapeva che sarebbe durato 30 anni anzi molto probabilmente anche chi comprava Alphabeta, Limited prima edizione italiana eccetera pensava che il gioco dopo 6-7 anni 5, 4, 3, 10 sarebbe morto quindi pensare che sia arrivato a 30 anni è veramente una cosa assurda cioè Magic questo sì che è assurdo Magic è vicinissimo al trentennale quindi bisogna fare i complimenti comunque alle varie aziende che l'hanno che l'hanno gestito perché possiamo criticare tutto quello che vogliamo ma loro hanno portato un risultato 30 anni di gioco e non è mai morto quindi veramente incredibile comunque l'articolo inizia così complice il Covid-19 questi giochi stanno vivendo una nuova età dell'oro per i collezionisti è un business che non conosce crisi allora sì è vero durante il Covid ovviamente all'inizio del Covid c'è stato tipo la moria ovviamente perché le persone non erano non sapevano cosa ci sarebbe stato in futuro e ricordatevi che tutte le economie del mondo si basano sulla fiducia quando non c'è fiducia la gente smette di spendere ed è successo questo all'inizio del Covid in Magic le persone non sapevano cosa ci sarebbe stato nel futuro quindi hanno perso fiducia e ovviamente quando non ti dicono non puoi uscire di casa sicuramente il tuo proprio pensiero non è compro delle carte di mese e quindi ovviamente si è bloccato tutto il mercato eccetera poi dopo un mesetto così dal primo lockdown dall'inizio del primo lockdown si è iniziato a sbloccare qualcosa però ovviamente ha flussi veramente veramente bassi poi c'è stata una cosa particolare che non si compravano tanto le carte per giocare perché non si sapeva neanche quando avrebbero riaperto i negozi quando si sarebbe potuto tornare a fare i pre-release i tornei pptq ptq eccetera i gp ricordiamo che ci sono voluti se non sbaglio due anni due anni e mezzo per poi tornare a un gp quindi un tempo enorme veramente enorme e che se ce l'avessero detto all'inizio del primo lockdown io non so quanti ci avrebbero creduto e e magari in tanti avrebbero venduto le carte in quel momento là quindi è stato veramente tanto tempo è passato e comunque quindi le persone non potendo giocare cosa hanno detto investiamo nelle carte da collezionismo quindi dal black lotus in giù quindi tutte le carte in reserve list hanno avuto uno spike enorme perché la gente era a casa non comprava più le carte per pioneer standard e modern da giocare in negozio ma comprava tantissima reserve list quindi la reserve list è esplosa infatti c'è stato uno spike veramente enorme adesso se noi riusciamo ecco qua a rimpicciolire vediamo ecco giulio 2016 2019 2021 2022 eccetera allora ecco qua questo qua è 2018 sì vediamo sì 2017 2018 qua mi da però il mio TGO aspetta infatti non mi tornava il grafico perché dicevo ma perché mi da sto grafico non ha senso e infatti questo è il grafico che ha un senso allora questa è la reserve list il valore totale della reserve list presa da da goldfish in questo caso da aprile 2018 quindi stiamo parlando di circa 5 anni ok guardate guardate l'andamento allora prendiamo ottobre 2018 che così è molto facile da 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 posizionare il tempo nel senso che ci siamo siamo al primo ottobre adesso quindi allora ottobre 2018 la reserve list valeva 65 66 mila dollari stiamo parlando dell'uno per della reserve list andiamo aprile 2019 57 mila quindi una perdita del di un 15 17 per cento più o meno poi andiamo a a questa era aprile vabbè ottobre scusate ottobre 2019 76 mila quindi in un anno da ottobre 2018 ottobre 2019 ha fatto più o meno 10 mila dollari in più ok quindi poi andiamo a ottobre 2020 siamo a 79 mila quindi è salita oggettivamente di poco in un anno no nel 2020 dal 2019 al 2020 ha preso tipo 3 mila dollari quindi un'inezia oggettivamente ottobre ottobre 2020 a ottobre 2021 ha preso 100 mila dollari ecco qua seguendo questa quotazione che può essere sbagliata cioè i numeri possono essere invece di 172 mila può essere 130 mila e il numero iniziale invece di 72 mila può essere 50 mila e l'andamento quello che conta vuol dire che in un anno dal 2020 al 2021 il prezzo a reserve list è completamente esploso e questo è dovuto soprattutto al covid perché la gente stando a casa si accorta che le carte che tanto per i tornei non gli servivano allora ha investito nelle carte nel lungo periodo cosa è successo dopo vediamo ottobre 2021 ha perso altri una ventina di migliaia di dollari e questo ci sta alla grande perché invece adesso si è tornati a giocare e quindi delle persone che magari avevano in collezione dico una cifra a caso è 1000 euro di reserve list a lungo termine no? che hanno fatto in quegli anni negli anni del covid cosa dicono? dicono perché mi devo tenere 1000 euro fermi sperando che salgano in futuro quando posso venderli e montarmi un modder e un pioneer e l'andamento è stato proprio questo quindi le persone cosa hanno detto? hanno detto le rivendo per comprarmi le carte a giocare e quindi tutto normale detto tutto questo l'articolo cosa dice? allora dice l'articolo in realtà in sé non è così interessante la cosa interessante è che una testata come solo 24 ore abbia parlato di magic parla per esempio di Logan Paul per chi non lo conoscesse è uno un intrattenitore diciamo un content creator americano molto ricco molto molto ricco che ha speso per esempio 3 milioni e mezzo di dollari in carte pokemon che poi si sono rivelate false allora io non so se sia vero non sia vero anche qua lo dicono se è una messa in scena o non è una messa in scena io ho visto il video sembra la sua reazione sembra abbastanza realistica però io non posso dire che sia vero o no magari su twitter o in giro è già uscito che sia falso e quindi non lo posso dire comunque lui è stato uno dei primi invece di investire nel prodotto sigillato pokemon delle prime edizioni in tempi non sospetti quindi lui un paio di anni fa due tre anni fa ha iniziato a comprare i box di pokemon prima edizione set base fossile eccetera e lui ha fatto iniziare a spike quella parte lì e ovviamente sono saliti anche tutti i prodotti sigillati quindi tutti i box che per esempio io vedevo su mkm che è il sito di riferimento a 700 euro sono passati a 2000 quindi hanno avuto un per due e mezzo nel giro di un anno o di pochi mesi e questo sta continuando a succedere perchè? perchè adesso le persone cosa dicono? dicono ma io se non ho i soldi per comprare un black lotus che costa 10000 euro ma magari ne ho un paio di migliaia se compro un box in cui in vendita ce ne sono su mkm5 io ho già un prodotto che è stralimitato adesso proviamo a guardare box urzasaga 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 tra l'altro sarà carissimo anche se c'è non saranno le cifre che vi ho detto io ma ecco ecco qua ecco qua questo è perfetto perchè nel 2012 un box di urzasaga stava a 350 euro ok? nel 2012 adesso l'ultimo che è stato venduto 6000 euro vuol dire che ha fatto per 20 in 10 anni per 20 ragazzi per 20 per 20 è tanto eh è veramente tanto per esempio io vi prendo un box che vedo qua questo box in coreano di questo utente qua è un affare perchè un box in coreano di urzasaga ok sealed non c'è 7000 euro è poco infatti il secondo è a 17500 cioè questo box per chi ha tanti tanti soldi sarebbe da comprare da comprare e tenere lì e infatti lo fanno perchè è l'ultima vendita e vabbè questa è vecchia oggettivamente si è mosso poco perchè è del 2021 quindi si è mosso veramente poco però questi box io sono sincero cioè io se avessi soldi questo box lo comprerei è un box che secondo me ha senso comprare e voi lo tenete lì ed equivale a un black lotus no? come valore perchè guardate ce ne sono 9 su mkm9 sono pochissimi quindi tra due anni molto probabilmente ce ne saranno 5 inserzionati il primo in coreano magari non ci sarà neanche più nessuno in coreano in vendita e lo potrete vendere a 20.000 capite? quindi questo è il senso di dire magic è diventato un bene di di un bene rifugio perchè ci sono tanti prodotti che sono abbastanza ricercati con una scarsità pazzesca quindi è tutto qua allora siamo giù a conclusione di questo video spero che vi piaccia l'argomento che vi sia piaciuto il video come l'ho affrontato se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale commentate se va e attivate la campanella ciao ragazzi